Anche la scenografia rappresenta quella che è la commedia? La scenografia rappresenta tutto, nel senso che il nostro uomo dal fiore in bocca è morto, l'abbiamo fatto morire. E quindi noi diamo seguito a questa storia. Quindi sarebbe molto interessante che il pubblico si leggesse la novella, perché si legge in dieci minuti, per riuscire a capire che lavoro abbiamo fatto noi. C'è la valutazione della vita, c'è il piacere e il gusto di provare a immaginare la vita quando ci sono tanti dolori, di provare ad andare avanti in un percorso immaginativo, perché altrimenti la vita o i dolori della vita ti possono devastare. E allora questa donna ripercorre attraverso un giochino che lei fa mentale, quello di immaginare la vita, quindi di non cadere nel reale, anche se poi il reale la riporta qui e quindi si blocca, non riesce ad andare avanti. E questo tema riguardava, riguarda anche, siccome questo spettacolo è nato durante la pandemia, riguarda anche l'impossibilità degli attori, di noi attori durante il Covid, durante il lockdown, di non poter immaginare che siamo rimasti chiusi, fermi, bloccati, di non poter fare il nostro lavoro, di non poter dare seguito alle nostre idee, alle parole della letteratura. Questo blocco lo raccontiamo anche attraverso questa storia. Abbiamo impostato che intanto l'uomo non c'è, è morto, e dopo la morte dell'uomo dal fiore in bocca, e abbiamo provato a immaginare la donna vestita di nero, che è la moglie, che lui a un certo punto durante lo spettacolo dice, la vede, la vede, eccola lì, si è nascosta adesso. C'è questa donna dolorante che lo segue tutto il tempo, e allora abbiamo immaginato questa donna che dopo che è morto sta lì davanti alla tomba a provare a capire che cosa gli è accaduto, perché l'ha allontanata da lui, perché questo che accade durante il testo racconta di questa moglie che è attaccata a lui e lui non capisce perché. E lei con il gioco dell'immaginazione che fa il protagonista, che fa l'uomo dal fiore in bocca, ci racconta la sua storia, che sono le stesse identiche parole, non è cambiato quasi niente.